con questo trattato. Noi ci opporremo a questo, a tutto questo, ve lo diciamo già da oggi, con tutte le forze. Ve lo pronunciamo, visto che alcune agenzie hanno già detto che si cercherà di arrivare a un accordo finale entro quest'estate. Quindi colgo l'occasione sotto il segretario che io mi ricordo le avevo chiesto in audizione, in commissione, perché? Perché veramente il governo è così sicuro di portarlo avanti e lei mi aveva detto addirittura che lo firmerebbe a occhi chiusi. Però non mi ha più disposto, quindi magari io ho aspetto qua, mi siedo e mi risponde oggi, che mi sembra la sede adeguata. Comunque, nella vostra relazione indicate questo trattato come necessario e vantaggioso per la nostra economia. Quindi, ripeto, verrai veramente una risposta del governo su questa cosa. Potremmo andare avanti ora e smontare la vostra relazione pezzo per pezzo, punto per punto. La vostra visione di un mondo diverso e moderno non c'è. State barattando quel poco che ci rimane in cambio di qualche punto percentuale. State minando la stabilità di un paese che vacilla sempre di più. State continuando ad aiutare chi vi ha garantito un bacino di voti e state abbandonando i cittadini, come sempre. Grazie. Grazie, onorevole Battelli. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiuso la discussione. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Berlinghieri, Alli, Capo e Sberna numero 6, 233, 223, scusate. Battelli ed altri, numero 6, 224. Cronbichler ed altri, numero 6, 225. Federighi ed altri, numero 6, 226. Occhiuto e Delvira Savino, numero 6, 227, che sono in distribuzione. Il rappresentante del governo ha comunicato alla Presidenza che interverrà in sede di replica e anche per esprimere il parere sulle risoluzioni presentate in altra seduta. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica numero 3302, 3329A e 3330. Avverto che lo schema recante e la ripartizione dei tempi di tali disegni di legge è pubblicato in calcio al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. passiamo dunque alla discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3302, ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay.